Finalmente, caro Pierluigi, riprendiamo dalla reggia di Quisisana questa presentazione di libri. Esatto, finalmente si riparte, speriamo di non fermarci più. Tra l'altro, reggia di Quisisana, Quisisana fa venire in mente Giovanni Boccaccio, autore del Decameron. All'interno di quest'opera c'è una novella ambientata a Quisisana. Il motivo di pertenza del Decameron è che dieci ragazzi, per sfuggire alla peste nera del 1347, se ne vanno in un giardino fuori città. Quisisana, insomma, si presterete. Tra l'altro, Boccaccio è stato anche qui, alla corte angioina. Ma questo è soltanto un preambolo per annunciare il libro di Dora Esposito, un bel libro frizzante, ironico, pieno di sentimenti. Si ride, si piange, si piange per allegria e si ride quasi per disperazione. Un libro davvero bello che vi consiglio. Gaetano, finalmente riprendiamo gli eventi qua alla reggia di Quisisana. Oggi abbiamo una Stabiese Doc, Dora Esposito. Riprendiamo questi incontri culturali che comunque il comune di Castellammare di Stabia, l'amministrazione Cimmino e soprattutto il nostro sindaco, ha tenuto molto. C'è stata una piccola sospensione dovuta quindi a questa crisi pandemica che ci ha coinvolto ancora una volta. Ma io sono fiducioso e quindi avremo una grande ripresa sia in termini culturali che in termini di eventi per i prossimi mesi. La segna letteraria qui dalla reggia di Quisisana e abbiamo una Stabiese Doc. Dora Esposito, ciao Dora. Salve, buongiorno. Un giorno ti racconterò. Raccontaci un po' qualche cenno di questo libro. La protagonista è Giulia, sempre in cerca, come tutte le donne, di lavoro, di un amore, di una stabilità, di un proprio io. La classica donna che vediamo quotidianamente, che lotta per una sua posizione. E solamente chi ha la testa dura riesce. Si definisce una guerriera? Certo, più che una guerriera. Ma tutte le persone, se vogliono, tutti siamo guerrieri. Chi più e chi meno, nel proprio io, lottiamo sempre per qualcosa. E alla fine siamo nati proprio per essere guerrieri. Un libro non solo per la famiglia. A chi lo consigli? Questo libro lo può leggere chiunque, anche le ragazze, perché a giorni d'oggi c'è bisogno proprio di leggere. Perché la cultura è importante. Se non si legge nella vita, non si è acculturati. Io penso che immergersi nei libri è anche un po' uscire fuori da tutta questa normalità. Ed evadere dai propri pensieri, dalle proprie quotidianità. E cercare sempre qualcosa dove aggrapparsi. Ecco, se una persona si aggrappa ad un libro, forse, riesce anche a cavare il meglio che c'è. Magari un consiglio, magari una frase. E quella propria frase, quella frase lì magari scatta un input dove può cambiare un qualcosa. Io sono una stabbiese, quindi tanto di onore. Sono onorata proprio oggi di essere qui a questa presentazione, perché è proprio la rappresentazione di Castellammare. Ecco, la cultura. E speriamo che vada avanti. Ricordiamo anche l'edizione. Arcadia Editore. E' una casa editrice di Cagliari, della Sardegna. E' una bella casa editrice. Per me loro sono la mia famiglia. Mi hanno accolta in tutti i sensi. Mi hanno anche aiutata. E sono veramente, veramente speciali. Grazie. Grazie. Grazie.